Buongiorno a tutti! Per chi non mi conosce, io sono Elisa di Ti Svelo Un Trucco e sono qui oggi per provare per la prima volta con voi il nuovissimo mascara Double Dream Supreme di Puro Bio. Rispetto al fratello maggiore, il nuovo arrivato in casa Puro Bio promette un effetto ancora più volumizzante e incurvante grazie al nuovo scovolino in nylon, questa volta e con questa forma elicoidale che permette di raggiungere tutte le ciglia in modo uniforme anche le più sottili e regalare un effetto ancora più incurvante e volumizzato. Inoltre ha una formula ancora più corposa ed extra nera per un effetto ciglia da sogno. Puro Bio ci dice che possiamo raggiungere tre diversi effetti con una passata abbiamo un effetto naturalmente incurvato con due passate abbiamo un effetto bold e intenso con tre passate abbiamo un effetto ciglia finte ovviamente noi puntiamo l'effetto ciglia finte adesso lo andremo a provare per la prima volta e vediamo realmente qual è l'effetto sulle mie ciglia mi guardo allo specchio perché se no non sono esattamente in grado aspettate vi metto la mollettina adesso è sicuramente meglio facciamo asciugare e facciamo la seconda passata ecco siamo pronti per la seconda passata sapete quando le donne fanno le facce buffissime quando si mettono il mascara ecco io sto facendo una fatica in mare per non farle perché sono molto abituata a farle invece quando mi trucco da sola ok adesso facciamo la terza passata ragazzi comunque mi devo perfezionare con queste inquadrature voi mi perdonerete sicuramente se sentite qualcosa di strano in sottofondo non vi preoccupate differenza la notate avete anche visto la differenza tra un'applicazione e l'altra adesso vado a rifare tutto dall'altra parte e vediamo poi il risultato finale vedete come lo distribuisce bene il prodotto sulle ciglia come lo scovolino raccoglie tutte le ciglia bellissimo questo scovolino è stupendo mi piace tantissimo wow adesso faccio la terza passata e poi vediamo ok direi che l'effetto nero intenso c'è direi che l'effetto ciglia finte c'è io ho fatto tre passate direi che si vede molto bene l'effetto ha incurvato parecchio le ciglia si vede soprattutto qui che ho insistito un attimo di più sono molto nere sono molto allungate e mi piace tantissimo questo scovolino lo vedete come eccolo qua veramente un bellissimo scovolino mi piace moltissimo anche la formula bella corposa te li dovevo portare anche fuori all'esterno per farvi vedere l'effetto alla luce del sole la luce naturale guardate quanto è bello no mi piace un sacco mi piace veramente tantissimo e sono super entusiasta di questo prodotto il double dream supreme è arricchito di olio di argan e olio di ricino quindi nutre e rinforza naturalmente anche le ciglia ovviamente come tutti i prodotti puro bio è certificato bio testato su nickel e cruelty flea e lo trovate in tutte le profumerie biochic e sullo shop al prezzo di 16,90 euro vi invito qualora non l'abbiate già fatto a iscrivervi al canale attivare le notifiche cliccando sulla campanellina e mettere un bel like di supporto se questo video vi è piaciuto e vi invito a seguirci e a continuare ad aspettare i nostri appuntamenti che sono tanti ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio ciao 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 ciao